Ariete, sollecitata da Mercurio, la luna nel segno parla di lavoro anche oggi, che questioni che non possono essere rimandate vi vogliono presenti. I dettami arrivano dall'alto, ma la vostra ambizione fa la sua parte, affrontate di petto la situazione. Toro, rivedendo con calma il vostro operato e facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare passi da gigante nel percorso professionale. Tenete sotto controllo le mosse autrui, ma il fatto di giocare in difesa raffredda la spontaneità del dialogo. Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energia, rapidità e abilità gli consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggia al riparo da rischi, successi sportivi. Cancro, luna furiera di imprevisti dovreste essere più che mai meticolosi anche se un'urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo. Siete fuori strada se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore. Leone, nessun ostacolo si frappone tra sogni e desideri. Carisma e charma aumentano. Successi in amore con un partner accomodante e innamorato. Confidate sempre senza timore nelle vostre risorse. Il bisogno di conferme può essere appagato. Vergine, bene l'attività ma bene anche l'amore. Specie se sta nascendo qualcosa di nuovo e di tenero con una persona del vostro ambiente di lavoro. Recuperata la vostra assennatezza riuscirete ad assolvere tutti gli impegni e a godervi una splendida serata. Bilancia, vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassate e risvolgete il vostro dovere con serietà e non raccogliete provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che vi consiglia la soluzione più saggia. Scorpione, il ritmo odierno è frenetico ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sblocchi nuovi per la carriera. L'affetto e l'amicizia vanno nutrite senza dare niente per scontato. Favoriti i viaggi e gli spostamenti. Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto. Avete lo spirito ideale per muovervi, divertirvi, uscire. Le vostre opinioni trovano credito, la luna accende il cuore ai sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità. Capricorno, non è il momento per concludere trattative, siglare i contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Toleranza, questo è ciò che occorre nei confronti di chi vi ama. Moderate le pretese e lo stress. Aquario, siete allegri, sereni, tutto vi entusiasmo e avete una carica dalle lune. Cambiamenti e progetti a breve scadenza, incontro piacevole con gli amici. Pizzeria o birreria, cinema, spasso per le vie della città sotto braccio alla vostra ultima fiamma. Pesci sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone di spessore. Date un tocco estroso al look. Ritrovate il guardaroba. Dovreste iniziare a raccogliere i frutti della vostra semina. Attivatevi per ottenere il saldo di un vecchio credito.